Tipicità sicuramente rappresenta una vetrina molto importante per le marche perché riusciamo a far conoscere le nostre eccellenze, i nostri prodotti tipici, nel nostro caso i vini, soprattutto i vitigni di cui le marche sono una regione molto ricca e ha un potenziale decisamente importante e con un'affermazione che si è consolidata nel corso degli anni, sia con il verdicchio che con altri vitigni autocrini come il pecorino, la passerina, lo stesso bianchello, quindi possiamo spaziare dalla provincia di Ascoli fino alla provincia di Pesaro. Inoltre questa è una regione in cui sono stati censiti altri vitigni che sono stati recuperati e che sono ancora da identificare, sono un patrimonio sicuramente ed un potenziale che l'AMAP, la nostra agenzia per l'agricoltura e la pesca delle marche ha in gestione e dove per il futuro stiamo cercando di verificarne le potenzialità per andare ad arricchire questo nostro patrimonio vitivinicolo.